... Abbiamo il piacere di salutare e presentare alla sua TV, alla TV del Ministero, il neoministro Francesco Lollobrigida. Benvenuto. Grazie. Sappiamo appassionato del mondo del cavallo. Una TV che racconta il mondo del cavallo a 360 gradi con una particolare dedizione allippica. Sì, la particolare dedizione allippica non deve essere solamente trasmessa. Bisogna cercare di ripensare un settore che negli anni è andato in crisi per un cambio di una serie di profili che riguardano la dismissione dell'Unire, che riguardano il modello delle scommesse, che riguardano anche la propensione di rimmaginarsi. Noi non pensiamo che l'ippica sia una zavorra, che sia una potenzialità. Per farlo bisogna riorganizzarsi in concerto con le associazioni del settore, gli imprenditori, le amministrazioni comunali, i privati che detengono gli ipodromi e quindi ragionare insieme ovviamente al governo che farà la sua parte di come restituire a questo settore la dignità che merita e che può avere anche guardando al ruolo che riveste in altre nazioni del pianeta. Pochi giorni di lavoro ma già le idee chiare. No, le idee chiare cerchiamo di averle da prima, di iniziare a lavorare in un ambito specifico. Fratelli Italia, il mio partito, il centrodestra, hanno nel loro programma illustrato qual è la centralità del nostro impegno. Non la declino adesso per ragione di tempo, però la sintetizzo nel fatto che l'Italia deve riscoprirsi, riscoprire le proprie potenzialità, guardare alle grandi ricchezze che abbiamo, che spesso abbiamo tenuto ai margini, invece di renderli una attività da tutelare, difendere e valorizzare. Basterebbe questo per gli italiani per riuscire ad avere uno stato di benessere ben diverso da quello che abbiamo avuto negli ultimi anni. Ministro, da tutto il mondo del cavallo e soprattutto da quello dell'Ippica, davvero buon lavoro. Grazie, buon lavoro a voi.